Qualche mese fa Teledeon ha realizzato un servizio con l'assessore ai lavori pubblici di Andrea Gianluca Grumo e Michele Matarrese del gruppo CON. In quell'occasione abbiamo constatato le difficoltà di chi è costretto a girare per la città su una sedia a rotelle. Vediamo che cosa è cambiato. Assessore, che cosa è successo dopo il servizio realizzato con lei da Teledeon, con lei e con il presidente del gruppo CON Michele Matarrese? È successo che chiaramente abbiamo posto alla nostra attenzione ancora di più quella che è la difficoltà di alcune barriere architettoniche che ancora insistono in città. Chiaramente negli anni sono stati posti in essere parecchi cantieri, parecchie opere che ahimè a volte non hanno tenuto conto di questa importante situazione. L'obiettivo è chiaramente quello su sollecitazione anche al vostro servizio, è quello di porre attenzione a queste situazioni che creano comunque difficoltà ai nostri concittadini che vanno in sedia a rotelle, eccetera. Per cui già da alcune ore successivamente a quel servizio ci siamo cercati come ufficio di attivare per poter eliminare alcune barriere fondamentali nella nostra città. Tant'è vero che già alcune settimane fa sono stati realizzati degli scivori a norma rispetto a quelli che precedentemente insistevano su alcuni marciapiedi. È chiaro che l'obiettivo di questa amministrazione, lì dove è possibile, è quello di eliminarli, almeno in quei punti in cui veramente i cittadini utilizzano maggiormente delle zone della nostra città. È chiaro che non è facile individuare tutte queste criticità, noi siamo disponibili come amministrazione ad accogliere alcuni suggerimenti, alcune indicazioni dalla cittadinanza per poter intervenire prontamente. E ovviamente rispetto a quelle che già sono state realizzate ce ne saranno altre, gradatamente in base anche a una programmazione del settore. Quindi io ringrazio chiunque voglia collaborare in questo senso, veramente con uno spirito, nella massima serenità, con uno spirito di collaborazione, proprio per cercare di dare ancora una volta un'opportunità alla nostra città, cioè quella di una crescita nel senso civico. Al di là di quelle che sono alcune strumentalizzazioni, di quelle che sono alcune critiche inventate ad arte, queste non interessano, hanno interessa soltanto crescere, crescere anche educando i nostri figli a quelle che sono le regole principali del senso civico. Lì dove i cittadini si sentono protagonisti dell'attività amministrativa e intervengono con proposte serie e soprattutto realizzabili, l'amministrazione penso che al di là di quelli che possono essere regolamenti o norme si attiva, proprio perché l'obiettivo del bene comune è quello che noi abbiamo a cuore, per cui io penso che in questo caso vada a calze a pennello questa situazione. Quindi il cittadino collabora in maniera attiva e l'amministrazione ovviamente prontamente interviene e accoglie le proposte serie e soprattutto di crescita.